Mercoledì 7 aprile si torna sui banchi di scuola. Questo l'effetto del provvedimento del governo Draghi che aveva previsto che anche dopo Pasqua si sarebbe tornato sui banchi in zona rossa fino alle scuole medie per le scuole superiori è determinante l'effetto del rientro in zona arancione della nostra regione. Superiori che tornano però al 50% in presenza, ma è già un passo avanti importante per gli studenti che per tante, tantissime settimane sono stati a casa davanti a un monitor, tutti relegati alla didattica a distanza. Li vedete alle nostre spalle, stanno pian piano entrando negli istituti. Qui siamo al campus scolastico di fronte al liceo scientifico Marconi e ogni scuola superiore pesarese torna al 50% in presenza in maniera facoltativa o dimezzando l'istituto ma mantenendo le classi intere oppure dimezzando le classi all'interno delle aule. Noi abbiamo previsto per questi quattro giorni un rientro graduale delle classi in quanto avevamo già preventivato la partecipazione in presenza di alcune classi che da sempre da noi frequentano perché fanno i laboratori, come le due classi del professionale alcune classi del Genga e abbiamo invece fatto in modo che in questi quattro giorni almeno una volta tutte le classi siano in presenza. Da lunedì invece partiamo con il 50% facendo sì che abbiamo diviso praticamente l'istituto in due gruppi e il primo gruppo frequenta lunedì, mercoledì, venerdì, l'altro gruppo nei giorni pari, martedì, giovedì e sabato e poi la settimana dopo si alterna. Così tutti i docenti hanno la possibilità di vedere le classi in presenza delle varie discipline e questa è la decisione che abbiamo preso, ripeto, supportata dal collegio docente, dal consiglio d'istituto, eccetera. Se mi è permesso vorrei fare un appello a tutti i ragazzi che utilizzano i mezzi di trasporto. Nel nostro istituto ad esempio sono tanti pendolari. Allora abbiamo visto che facendo noi in AS hanno fatto questi tamponi nelle parti di contatto tipo le maniglie, il poggiatesto, eccetera. E abbiamo visto che sui mezzi di trasporto appunto c'è il virus. Quindi un appello davvero, diciamo, di cuore a questi ragazzi. Quando scendete dagli autobus, mi raccomando, utilizzate subito un disinfettante, quindi mani, eccetera, sanificatele. E soprattutto durante il trasporto tenete sempre la mascherina. Sempre, mi raccomando, ragazzi. Mascherina, se possibilmente anche quella FFP2, ma almeno la chirurgica. Mai toglierla. Giornata di rientro in presenza al 50% per le scuole superiori. Giornata di rientro totalmente in presenza per tutti gli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado. Fin dall'asilo nido alla scuola media. Nello specifico, qui siamo in una scuola primaria, la Don Bosco dell'Istituto Comprensivo Villa San Martino. No, i bambini sono tornati in classe, cosa che avevano sempre fatto dal lockdown del 2020 fino allo scorso 10 marzo con l'entrata in vigore in zona rossa. Dunque, da oggi si torna a quella che dovrebbe essere la normalità con tutti sui banchi. Adesso ritorniamo alla normalità. Tornare alla normalità è sempre semplice, anche se questa è una normalità, diciamo, a metà. Perché comunque richiede di nuovo il rispetto di tutte le regole, di tutela della salute. Perché torniamo a fare scuola in mezzo alle mura della scuola, nei corridoi, ma sempre dovendo fare a meno di determinate attività. Per esempio nel campo della motoria, non possiamo fare incontri di lavoro di progetto laboratoriali. Per noi che siamo una scuola che lavoriamo molto come laboratorio, è comunque un limite. Però il ritorno alla normalità consente ai bambini di vedersi, consente il momento della ricreazione, consente, adesso forse noi siamo più fortunati, non so tutte le altre scuole come siano, diciamo, sistemate. Però avendo giardini e andando verso la bella stagione, tutto sommato, questo momento è meno problematico di quello che uno potrebbe pensare, tutto sommato. Perché si possono fare, ritornare a fare come a settembre, ottobre, molti lavori fuori. E sicuramente, ribadisco, per i bambini è un vantaggio. È un vantaggio perché loro hanno bisogno di questa socializzazione. Però il bene comune della salute, purtroppo che è un bene anche quello costituzionale, ha richiesto dei sacrifici. E che cosa dire di questi bimbi che tornano? Tornano in un ambiente che è quello della scuola, che ha questa grande capacità, io ribadisco, di adattamento. La scuola è abituata ad affrontare imprevisti tutti i giorni, anche se finora molti magari non lo sapevano, non lo pensavano. Però la scuola è fatta di imprevisti. Forse questa è la sua bella caratteristica. Quindi essere tornati fra le mura, tutto sommato, per noi è come forse non essersi mai fermati, di fatto.